Alleluia. O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli ed è meraviglioso. Alleluia. Grazie, Signore, con tutto il cuore grazie, grazie, grazie. Quanto è magnifico il tuo nome, o Dio, su tutta la terra. Tu che hai creato l'amore nella ridocuore dell'uomo. Quando considero i cieli opere delle tue dita, il sole, la luna, le stelle. Cosa sono, Signore, per me? Quanto è magnifico il tuo nome, Signore, per tutta la terra. Signore, fa che anche della mia terra sia magnificato il tuo nome. Un professore mi ascoltò mentre cantava questo canto in un parco, scese e disse che era un fatto delittuoso che io trasmettevo queste verità alle persone, perché la verità non ha un solo modo di rivedere. Ci sono molte verità. Allora io dissi, ognuno la vede a modo suo, secondo la sua filosofia. Io dissi, professore, ma per me la verità non è una filosofia. Per me la verità è una persona e chi ha dato la vita per me, come Gesù ha detto e dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Io sono la via, la verità è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. e noi facciamo come Tommaso. Signore, noi non sappiamo dove tu vai, come possiamo sapere la via? E Gesù di nuovo ribadisce, io sono la via. Ebbene, caro professore, per me la verità non è una filosofia da studiare, per me la verità è una persona da ascoltare e da seguire. E le sue orme sono quelle che ci portano dalla terra al cielo. Ed è veramente meraviglioso. E così lui mi lasciò e se ne andò. Molte persone che stavano ad ascoltare là, perché c'erano, credo, una quindicina di persone, si fermarono a vedere questo dibattito e dice, voi, quello è filosofo, dice, quello è una persona, è filosofo, non lo state molto a sentire. E così, così sono le persone oggi. Chi accetta e chi non accetta. Ma Gesù è sempre lo stesso. Egli era, è e sarà in eterno. Alleluia. Perché da Dio che era, lui si fece uomo come noi. Perché noi da figliuoli di uomini potessimo diventare figliuoli di Dio. Ed è veramente meraviglioso. Questa è la parola della fede che io ho creduto e che noi annunciamo ogni volta che abbiamo la possibilità. Così leggo il Salmo 19, anche per voi, perché la parola di Dio cittì parole mie. Consequenzialmente, quanto più parole di Dio posso dare alle persone che mi ascoltano, più, Signore, io sono felice. Alleluia. I cieli raccontano la gloria di Dio. Il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella, la loro voce non sode, Ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungano fino alle estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole. Ed esso è simile ad uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. E gli esce da un'estremità del cielo e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. Prima del servizio militare, una piccola pausa, prima del servizio militare lavoravo a Leonessa, provincia di Rieti, e facevamo un edificio scolastico con una palestra annessa. E va bene, mi prendevano il figlio del signor Italo, il figlio del signor Cortigiani, mi prendeva dalla stazione Termini di Roma e attraverso la via Salaria si passava per Rieti e poi da Rieti si saliva a Leonessa e si attraversava la sella della Leonessa, sella della Leonessa ed era a 2200 metri di altezza. E quando era notte, era ancora era notte, allora io la scusa di, diciamo, una cosa personale, e allora mi fermavo, mi allontanavo un attimo e contemplavo il cielo azzurro, mai l'avevo visto così, ma troppo bello, stupendo, meraviglioso. E io dissi, signore, ma tu con tanta bellezza hai posto anche i tuoi occhi su di me, io ti ringrazio dalla profondità del mio cuore, ti ringrazio. E così dopo andavo e andavo un'altra volta in macchina e mi portavano poi a Leonessa. Carissimi, ed è veramente bello. Così abbiamo detto che questo Salmo ha due movimenti, il cielo stellato sopra di noi dal versetto 1 al versetto 6, e poi il secondo movimento è la legge morale dentro di noi. Per tutti gli uomini il Signore l'ha fatto, non soltanto l'ha fatto per Israele, non soltanto per Davide, che forse lo ha ispirato sicuramente Dio, perché lui chiedeva al Signore, chiedeva al Signore dall'alba, dall'alba, dall'alba al mattino, dal mattino, alleluia, al mezzogiorno e alla sera. Era così, gli piaceva proprio la comunione con Dio, la relazione con Dio personale. Dall'alba all'aurora e al giorno pieno, alleluia, e lui adorava il Signore. Adesso leggo dal versetto 7 al versetto 14. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussisse per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, ma di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. Beh, una grande ricompensa ad osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendono il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza. Oh Signore, mia rocca, mio Redentore. Ed è veramente bello quando l'uomo si lascia guidare dalla parola del Signore. Io ogni giorno prego, Signore, innamorami più di Te. E come faccio a innamorarmi più di Dio? Così, come Gesù mi ha insegnato. Se perseverate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Poiché se il figliuolo di Dio vi libera, allora sarete veramente liberi. Molte volte noi vogliamo liberazione, vogliamo liberazione dal... così, da qualsiasi dominio. Va bene? E soltanto in Dio, come abbiamo iniziato, trova a riposo l'anima mia. perché Egli è il mio Salvatore ed il mio Dio. Gesù ci invita a sé. Oggi ci ha invitati e ci invita ancora. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati. Ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco, imbarate da me, perché io sono umile e mansueto e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. È veramente così. Da moltissimi anni cerco di piacere al Signore. È veramente bello. Egli ci dona un'altra... ci rigenera, ci rigenera lo Spirito dentro di noi. Come dice Davide, alla preghiera di Davide nel Salmo 51, Signore, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno Spirito ben saldo. Rendimi la gioia della tua presenza e fa che uno Spirito volenderoso mi sostenga fino a quando tu desideri. Ebbene, tu ci hai protetti nel grembo materno, hai controllato l'uscita dal grembo materno e tu fin qui ci hai custoditi e tu ci custodirai fin là dove tu desideri perché i tuoi progetti si avverino per noi e noi vivremo lo scopo per cui siamo stati creati da te per piacerti, lodare il tuo nome, ricevere la tua parola, ricevere il Vangelo dentro di noi e trasmettere il Vangelo agli altri. Come il sole con la sua luce con la sua luce ci illumina, ci dà calore, ci irradia, ci irradia, ebbene, e noi avremo la libertà per muoverci, per lavorare, per studiare, per fare altre cose, così la vera luce che illumina ogni uomo venne nel mondo. Evangelo di San Giovanni capitolo 1, versetto 9, alleluia, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo, ma gli uomini piuttosto hanno amato le tenebre più che la luce, perché? Perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, chi deve rubare cerca di rubare di notte, oppure aspetta pure una notte ventosa per muoversi per andare a rubare. Ma una cosa bella del Vangelo di San Giovanni è che uno dei capi dei giudei, alleluia, Nicodemo, in una notte ventosa prese l'occasione di andare a parlare con Cristo e dicendogli Signore, noi sappiamo che Tu sei un uomo venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che Tu fai se Dio non è con lui. E Gesù gli disse Nicodemo, se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E come fa? Come fa un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? e Gesù gli disse Nicodemo, Tu sei un dottore della legge e non sai queste cose. Ciò che è carne è carne, ma ciò che è spirito è spirito, bisogna che Tu nasci di nuovo. E questo è il miracolo della nuova nascita. Dio ci risuscita lo spirito, essendo che il corpo umano ha tre qualità, corpo, anima e spirito. Come il corpo ha i cinque sensi, vista, udito, odorato, gusto e tatto, così anche l'anima ha i cinque sensi, emozioni, intelletto, volontà, fantasia e immaginazione. E lo spirito? Lo spirito sarebbe il cuore dell'anima, l'anima dell'anima, sarebbe l'essenza dell'essere. Così ci spiega l'Apostolo San Paolo nella prima lettera ai Colossesi capitolo 5. Io sono spirito, ho un'anima e abito dentro un corpo. E siccome ho perso la purezza, alleluia, di quando ero bambino, non ho più un cuore puro. Quando il Vangelo mi dice nel capitolo 5 del Vangelo di San Matteo, capitolo 5, versetto 8, Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Noi non siamo più puri di cuore. E allora cosa succede? abbiamo bisogno di essere purificati. E chi ci può purificare? Soltanto il sangue di Gesù Cristo versato sulla croce per noi. Che proprio la croce è il ponte che passa, che fa con la sua verticalità dalla terra al cielo. Comunica. Alleluia. perciò Gesù è via verità e vita. E poi col suo palo, con la sua asta orizzontale, alleluia, Gesù vuole abbracciare tutta l'umanità. Come dice Tito nel capitolo 2 e anche Timotio, capitolo 2, versetto 5, e poi anche Tito, capitolo 2, dal versetto 11 al versetto 15 ci dice che Dio desidera salvare tutti gli uomini. È bellissimo, veramente. E poi San Paolo ci spiega ancora un'altra cosa. Nel capitolo 2 di Efesini, dal verso 4 al verso 10, poiché Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amato anche quando eravamo peccatori, eravamo senza Dio. Alleluia, Cristo è morto per noi ed è per grazia che siamo salvati mediante la fede e ciò non è da noi ma è il dono di Dio. Ascoltatrice, ascoltatore, ricevi questo dono. E la purezza perduta con il peccato e l'innocenza perduta con il peccato Dio ce la fa ritrovare in Cristo Gesù il Signore donandoci attraverso il suo sangue prezioso versato e attraverso la sua parola alleluia che la sua parola ci lava l'esteriore e il sangue versato di Gesù ci lava l'interiore e poi un'altra bella notizia che per le sue levidure per la sua flagellazione noi siamo guariti hai bisogno di liberazione Gesù ci libera hai bisogno di guarigione Gesù guarisce hai bisogno di redenzione Gesù è il redentore colui che ci riscatta ha pagato il prezzo del nostro riscatto con il suo preziosissimo sangue è veramente meraviglioso il Signore amiamo Gesù oggi tutte tutte le cose che ci circondano ci portano lontani da Dio fratelli ma la parola di Dio ci invita e Gesù ha detto venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi venite a me e Dio vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco imparate da me che io sono umile e mansueto e voi troverete riposo alle anime vostre perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero Gesù da Dio che era si fece uomo perché noi da figliuolo dell'uomo figliuolo di Dio si fece figliuolo dell'uomo perché noi da figliuole di uomini potessimo diventare figliuoli di Dio questa è la buona notizia del Vangelo e la parola carne divenne e pose la sua tenda fra di noi perché l'Apostolo San Giovanni quando scrive il Vangelo parla della tenda perché perché in greco la parola tenda si dice schene e poi nell'Antico Testamento quando scendeva la gloria la shekinah alleluia la radice era S-K-N e così anche la tenda due lingue due lingue due parole ma hanno la stessa radice schene la radice è S-K-N alleluia e così volendo dire che la gloria di Dio è scesa tra di noi e Gesù mise a parte mise da parte la sua divinità e per 33 anni come vero uomo alleluia ha vissuto ha rispettato la volontà del padre e come vero uomo alleluia ha giudicato si è lasciato giudicare dagli uomini fratelli condannato dagli uomini per gelosia per gelosia perché perché aveva perché aveva appunto operato bene dovunque lui andasse con qualsiasi persona che si incontrava Gesù disse a Marta quando Marta gli disse Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto e Gesù disse a Marta io sono la risurrezione e la vita chiunque creda in me benché sia morto vivrà e chiunque vive e crede in me non morrà mai credi tu questo Signore io credo che mio fratello risusciterà però nella risurrezione nell'ultimo giorno Gesù disse io sono la risurrezione e la vita chiunque crede in me non morrà mai alleluia grazie Signore sei un Dio meraviglioso sei un Dio meraviglioso e Dio ti esprimo tutta la mia gratitudine che tra 7 miliardi e 350 mila uomini e donne hai scelto anche a me per servirti gloria al tuo nome Signore e io voglio farvi una benedizione come servo del Signore per grazia la farò in ebraico poi la traduco in italiano ecco perché la parola la parola il logos si è fatto si è fatto carne il verbo si è fatto carne e la parola carne divenne e pose la sua tenda fra di noi e noi andiamo a rifugiarci al sicuro come come Davide piegò Signore conducemi sulla raocca che è troppo alta per salirvi da me e Gesù con lo Spirito Santo ci convince di peccato ci convince del bisogno che abbiamo e questo è veramente meraviglioso è opera di Dio la salvezza come disse Giona la salvezza appartiene al Signore i discepoli Signore ma il tuo parlare è duro chi può ascoltarlo e Gesù dovette dire ai suoi discepoli me ne volete andare anche voi e Pietro disse Signore da chi entremo solo tu hai parole di vita eterna e così i discepoli alleluia seguirono il Signore ascoltarono il Signore ubbidirono al Signore pregando sull'alto solaio e poi ricevetterle tutti lo Spirito Santo compreso la mamma di Gesù era nell'alto solaio e anche lei ricevette lo Spirito Santo Dio vi benedica Shalom di Gesù di Gesù di Gesù di Gesù